e ci sono anche quelle del palo ragazzi buongiorno siamo pronti per le bianche abbiamo il nostro capitano che ecco secondo capitano gregario gregario la seconda foratura giornata per il campione del mondo paolo vettini in 80 metri due volte eppure questo è il record ora riempiremo la gamba e la ruota con qualche birretta la chiave è l'ultimo del problema il supremo grande supremo niente noi siamo impegnati però anche oggi qui sembra più la coppa cobron che la strada bianca sembra più la coppa cobron che le strade bianche si diciamo che stiamo facendo ridere i sassi si si